non compro niente io non voglio venderti niente vorrei solo iniziare una collaborazione te sei matto che collaborazione dovrà iniziare con te magari una collaborazione senti notte poter perdere ok non entra mai in casa mia cazzo un fottuto virus scusami se prima volevo lasciarti entrare ma qualche giorno fa due vecchi del cazzo mi hanno tirato una pezza infinita su dio sulla chiesa e altre cazzate quando hanno finito non ho potuto fare altro che mandargli a cagare pensare che per poter cambiare la società mi devo affidare nelle mani del signore veramente va bene solo la tecnologia può salvarci è l'unico modo per farlo capire a tutti e toglierlo a tutti ho sempre desiderato trovare un virus che possa strangolare interumanità non funziona non va un cazzo mi va un cazzo mi manca la connessione mi passa quel cavolo l'apertero subito Grazie a tutti. Grazie a tutti.